la contessa di carolistria storia tragicomica capitolo ii quella notte don fulgenzio aveva avuto il sonno leggero gli era parso di udire nella casa degli insoliti rumori e poi perché dovremmo tacerlo una larva seducentissima di donna insottana da abate non si era mai dipartita dal suo letto per cacciare le tentazioni si alzò prima di giorno e attraversando l'anticamera gettò l'occhio sulle vesti abbandonate la sera innanzi dalla signora ricoverata nel salottino povera signora sospirò da ben prete converrebbe che qualcuno provvedesse a far asciugare questi panni prima che la sedesti questo qualcuno non potrei essere io detto fatto don fulgenzio adunò un bel cumulo di legno sul caminetto accese un gran fuoco e schierate a conveniente distanza dalla fiamma una mezza dozzina di seggiole distese su quelle i drappi umidi e rattrappiti un vapor bianco e molle si diffondeva nella stanza le nari tumefatte del giovane sacerdote respiravano con le esalazioni dell'idrogeno due distinte fragranze di contessa e di visconte era per il casto don fulgenzio la prima estasi peccaminosa che gli fosse accaduto degustare in sua vita un rumore di passi venne a riscuoterlo qualcuno saliva la scala frettolosamente forse la bella forestiera no era il sagrestano della parrocchia che affannato che i capelli irti con gli occhi fuor dalle orbite veniva a dirrompere nell'anticamera che disgrazia che orrore chi avrebbe immaginato calmatevi batacchio cos'è accaduto domandò il coadiutore impallidendo cos'è accaduto lei mi domanda cos'è accaduto ma dov'è signor parroco presto corra a svegliarlo bisogna informarlo subito bisogna trovare un espediente ah e lei qui don calendario che rumore è codesto disse il parroco avanzandosi mezzo svestito cosa vuole a quest'ora il nostro batacchio cosa voglio cosa voglio riprende il sacrista giungendo le mani in atteggiamento disperato vorrei che il governo piantasse mille forche ai fatti ai fatti interruppe il parroco che cominciava a presentire qualche cosa di molto serio ebbene i fatti eccoli qua signor curato e che il diavolo mi strozzi la moglie se io ci ho avuto un briciolo di colpa questa notte sono entrati dei ladri nella chiesa ed hanno spogliato la santa immagine della nostra venerata patrona strappandole di dosso le gonnelle il gran manto a stelle d'oro e infine tutto quanto spogliata santa dorotea esclamano con espressione di orrore i due preti fulminati da tale notizia e il sacrista stanno singhiozzando se di tutto le hanno rubato gli scellerati della nostra santa benedetta non rimangono che le braccia la testa e un imbottito di stoppa sorretto da due pali nel giorno del centenario nel giorno della processione i due preti parevano impietriti don fulgenzio guardava don calendario don calendario guardava don fulgenzio e il sacrista favorito dallo strabismo guardava l'uno e l'altro ad un tempo dopo un istante di silenzio girando gli occhi verso il caminetto il parroco fu colpito da un'idea se quelle vesti si attagliassero al fusto della santa sia la signora arrivata questa notte non incriscesse ma questa è un'ispirazione del cielo esclama don fulgenzio il sagrestano accostatosi al caminetto si diede a svolgere le stoffe ammirando ed approvando l'abito era stupendo la granciarpa trapunta in oro poteva fornire uno splendido manto il cappello piumato a dire del sagrestano si conveniva ammirabilmente ad una santa che doveva sfidare il sole nella processione con quattro colpi di spazzola e una ripassata di ferri in meno di dieci minuti si aveva un'acconciatura da fare invidia alle regine di tarocco quel che sa da fare si faccia presto disse il parroco tu batacchio va svegliare tua moglie e ella stira perfettamente delle donne ad osservare un segreto don fulgenzio che quando vuole sa mettere il miele tra i punti e le virgole scenderà nel salottino a intercedere grazia dalla signora poi si andrà in sagrestia a rivestire la santa e all'ora della messa pontificale ogni cosa sarà in ordine vi pare che io dica bene? don fulgenzio in quattro salti fu al fondo della scala una commozione non mai provata agitava i suoi nervi svegliare una donna per un prete confessiamolo la missione era delicata e non scevra di pericoli bussò leggermente all'uscio del salottino nessuna risposta bussò una seconda volta silenzio don fulgenzio sentiva i brividi dell'ignoto alla fine dischiudendo la porta leggermente come un ignoto ladro odamante furtivo spinse innanzi la testa il salottino era buio atterrito dalle tenebre e dal silenzio don fulgenzio si avanzò sulla punta dei piedi e aperse le imposte bontà divina esclamò il prete dando un balzo che lo inchiodò alla parete al prorompere della luce era insorto da un angolo della stanza un vagito stridulo e mordente e gli occhi di don fulgenzio vitrei spalancati grossi di linfa epatica si affissavano con terrore sovra un bambinello color scarlatto che scalpitava come un piccolo sesso tra le ripiegature di un tovagliolo l'inaspettato istupidisce il misterioso terrifica don fulgenzio voleva gridare voleva fuggire ma la voce non gli usciva dalla strozza le gambe non lo reggevano egli era preso da una vertigine di stupore e di sgomento il parroco e sacrista dopo aver atteso un quarto d'ora l'esito dell'ambasciata discesero a loro volta nel salottino la loro sorpresa al vedere un neonato laddove immaginavano di trovare una signora fu pari a quella che aveva colpito don fulgenzio rimasero a bocca aperta impietriti l'espressione di quei tre volti da prete e da sagrestano era identica come identiche le apprensioni e le congetture il sole perfino il sole è tutto dire affacciandosi alla finestra sonnolento e stranunato faceva degli sberleffi non più veduti alla fine il parroco che dei quattro personaggi colà adunati era il solo che avesse ancora la testa a segno prese gravemente la parola degli avvenimenti inesplicabili si succedono d'ora in ora di minuto in minuto sotto i nostri occhi avvenimenti quasi miracolosi nei quali io sarei lieto di riconoscere il provvidenziale intervento della mano celeste se non avessi la ferma convinzione che l'influenza tenebrosa di satana vi abbia parte batacchio prendetevi fra le braccia quel marmocchio vedete se vi riesce a ricalmarlo le sue strida mi spezzano il filo delle idee ciò che più urge secondo il mio debole avviso sarebbe di provvedere al collocamento di questo effetto mobile esportandolo dalla nostra casa con la maggior sollecitudine i tempi sono tristi la stampa imperversa sul clero e questo effetto potrebbe divenir causa di scandalo a momenti deve giungere il vescovo che direbbe monsegnore se al metter piede in queste soglie avesse a sorprendere questo frutto di provenienza sospetta che può dar luogo ai più sfavorevoli commenti un cuore mondo e una coscienza illibata non temono il giudizio degli uomini né il giudizio di dio questa sentenza proferita con accento solenne era partita dalla soglia del salottino tutti gli occhi si volsero da quel lato un nuovo personaggio dall'aspetto maestoso avvolto in una zimarra nera filettata di seta rossiccia con una croce d'oro pendente sul petto e infine affrettiamoci a presentarlo monsignor da guttinga vescovo di rosimburgo era apparso sulla soglia questa nuova sorpresa dopo le tante che si erano succedute in quella casa da mezzanotte al mattino non produsse negli astanti lo stupore che il degno prelato si attendeva le grandi commozioni si elidono per snodare le gambe riprese il vescovo con la sua voce rotonda e pastosa da prelato soddisfatto sono sceso dalla carrozza all'ingresso del paese ed ho proseguito a piedi fino al vostro tetto nella mia lunga carriera ecclesiastica mi sono preso parecchie volte questa licenza tollerata dai canoni onde evitare le dimostrazioni chiassose e le cerimonie stucchevoli ma giammai mi è accaduto di sorprendere un parroco un coadiutore e un sagrestano che in una giornata di grande solennità al momento in cui la chiesa reclama più urgentemente i loro uffici stessero raccolti in un salotto a deliberare sui mezzi di sottrarre un neonato alla vista del loro vescovo da un calendario attendo una spiegazione l'onesto parroco di tal guise interpellato senza ostentazione con la franchezza dell'uomo incolpevole espose in brevi parole i fatti che noi sappiamo la notte scorsa mentre imperversava l'uragano una signora venne a chiedere il ricetto esordio romanzesco e mi interessa vivamente noi l'abbiamo ricoverata le abbiamo prestato i nostri abiti le abbiamo permesso di passare la notte in questo salottino fin qui non trovo argomento di censura questa mattina don fulgenzio discende per dar la sveglia alla signora e in luogo della signora trova su quel divano il bambinello che qui vedete il fatto ci parve così strano così fuori dall'ordine naturale il fatto sarebbe più strano interruppo il vescovo che amava la barzelletta se la persona che vi ha lasciato in deposito quell'oggetto fragile fosse stato un maschio piuttosto che una femmina non calendario so che siete un onestuomo un sacerdote esemplare e io presto piena fede alle vostre leali spiegazioni ciò che vi ha di poco naturale nella graziosa storiella che avete narrata è che voi ammettendo nella casa una persona sconosciuta non l'abbiate richiesta del nome è vero non ci abbiamo pensato disse il parroco e frattanto ella se n'è andata coi nostri abiti indosso coi vostri abiti indosso ma dunque le sue vesti sono là sopra nell'anticamera e vi giuro monsignore che mai non mi è accaduto di vedere un più splendido abbigliamento di donna ma non avete qualche indizio non avete tentato di scoprire su quelle gonne non vi era una cifra ah sclamò don fulgenzio battendosi la fronte vedete lo smemorato ma sicuro nel taschetto della sottana c'era un portafogli io l'ho levato prima di mettere i drappi ad asciugare e l'ho posto sul traversino del portapanni presto dunque andate a prendere quel portafogli che volete figliuoli nella mia lunga carriera ecclesiastica non ho mai sentito vibrare così potentemente gli stimoli della curiosità si direbbe un presentimento ma ecco don fulgenzio col portafogli bravo date qua apriamo delle carte una ricevuta del monte due biglietti dell'otto un biglietto di visita sì questo è un biglietto di visita ora sapremo il nome leggiamo cioè leggete voi don calendario ho dimenticato gli occhiali nella carrozza nella mia lunga carriera ecclesiastica ciò non mi è accaduto che due volte don calendario prese la cartolina e facendo spiccare le sillabe declinò il nome della contessa Anna Maria di Carolistria la contessa Anna Maria esclamò il vescovo balzando innanzi due passi la contessa Anna Maria di Carolistria ripetè il parroco avanzandosi per sorraggere il monsignore che pariva vacillasse sotto il peso di una forte commozione la contessa di Carolistria mia nipote me l'ero figurato non c'è che lei non c'è che lei per giuocare di queste farse sagrestano tenete ritto quel bambino badate che non caschi che non si sciupi caspita è un mio pronipote sì sì voglio darmi la soddisfazione di battezzarlo io frattanto muovetevi fate trovare una baglia in mancanza di una baglia una capra una lupa Romolo fu ben allattato da una lupa su dunque spicciatevi ma dove sarà andata a ficcarsi la contessa bisogna cercarla condurla qui rivestirla dei suoi panni nella mia lunga carriera ecclesiastica non ricordo di aver mai provato una scossa più violenta di questa così parlando il vescovo si era lasciato cadere su di una poltrone gli astanti attoniti confusi preoccupati da altre urgenze gravissime in luogo di affrettarsi ad eseguire gli ordini ricevuti facevano delle pazze evoluzioni intorno alla tavola tornando sempre sul posto d'onde erano partiti a crescere gli imbarazzi a produrre un più strano scompiglio nelle idee intervenne un nuovo personaggio era un bell'uomo di struttura atletica dall'occhio grifagno che portava l'allarmante divisa dei commissari di polizia entrato fece un inchino a sua eminenza e avanzandosi con militare spigliatezza disse di avere un dispaccio da consegnare al reverendo parroco del paese d'onde viene questo dispaccio chiese il vescovo ansiosamente ho mille ragioni per credere che sia pievuto dal cielo rispose il commissario sorridento mi è caduto sul naso poco fa mentre stavo in agguato dietro il campanile spiando le mosse di un nihilista sulla soprascritta c'era l'indirizzo del signor parroco e mi sono affrettato nessuno si muova gridò il vescovo lanciando un'occhiata significante sul commissario probabilmente in quel dispaccio si contengono delle rivelazioni di importanza che daranno un grande affare a noi tutti leggete da un calendario il parroco sciolse il piego e lesse a voce alta passeggiando per di porto sulla cima del campanile e colpito proditoriamente da un sacro bronzo nelle adiacenze dell'osso parimente sacro mi trovo ridotto all'assoluta impotenza di scendere con le mie forze da questa alta ma altrettanto falsa posizione faccio dunque appello alla nota carità di vos signoria reverendissima a ciò voglia affrettarsi a mandar quassù il miglior medico del paese perché esamini la mia ferita giudichi e provveda a norma del caso in attesa di pronti soccorsi la ringrazio anticipatamente ed ho l'onore di segnarmi conte bradamano di carolistria quella lettera sollevò un mormorio silenzio tutti tuonò il vescovo balzando dalla seggiola dinanzi a una complicazione sia arruffata conviene riflettere al nesso piuttosto che alla singolarità degli accidenti e procedere alla scoperta del vero rimontando dal noto all'incognito ora agli altri accidenti noti si aggiunge quello di uno stordito che va a passeggiare in cima ad un campanile mentre il suo posto dovrebbe essere al capezzale della moglie o presso la culla del suo primogenito vediamo se ci riesce col sistema delle induzioni di trovare la spiegazione logica di una coincidenza così anormale perdoni l'eminenza vostra colendissima disse il commissario inchinandosi rispettosamente si ardisco esporle un precedente dal quale potrà riflettersi qualche luce sull'avvenimento che la preoccupa a noi consta che sua eccellenza è il conte bradamano di carolistria va da qualche tempo soggetto a degli accessi di pazzia furiosa ieri sera a Borgoflores è occorso a me che ho l'onore di parlarvi di assistere ad una scena basti dire che il signor conte era siffattamente uscito di senno da non riconoscere la propria moglie e ha dato in tali escandescenze da obbligarmi a invocare lo intervento delle guardie del manicomio ora comincio a comprendere disse il vescovo povera contessa disgraziata nipote maritata ad un pazzo io già ne sapeva qualche cosa fortunatamente le leggi provvedono dio chi mi aiuta a raccogliere le fila di questa matassa ma il buon prelato non ebbe tempo di raccogliere un sol filo che un elegante zerbinotto seguito da un domestico entrò nella sala era un biondo dal profilo delicato dalla tinta rosea dagli occhi sfavillanti due baffi esagerati da pompiere libertino costituivano il solo accessorio canagliesco del suo volto aristocratico e geniale salutò gli astanti con garbo disinvolto da uomo pressato di andarsene e facendo avanzare il domestico che recava sulle braccia un involto gli accennò di posarlo sulla tavola non farò ai miei lettori il torto di dubitare che essi non abbiano sotto l'ombra dei baffi posticci riconosciuto il visconte d'Aguilar è illustrissima signora contessa di Carolistria disse il visconte mi dia in carico di restituire a codesti egregi sacerdoti i venerandi indumenti che ieri notte si compiacquero di prestarle la signora contessa desidera parimenti che i suoi degni ospiti a pegno della sua riconoscenza serebino le vesti da lei smesse per farne quell'uso che alle loro signoriere verendissime potrà sembrare più utile a tali parole il parroco in un guizzo di gioia strizza l'occhio al sagrestano e questi trasmesso a don Fulgenzio il marmocchio lesto come uno scogliattolo uscì dal salottino finalmente i gruppi vengono al pettine esclamò il vescovo fregandosi le mani allegramente ora potremo anche sapere dove sia andata a nicchiarsi quella pazzerella di nostra nipote le cui sventatezze ci tengono in tanta apprensione la signora contessa di Carolistria è alloggiata all'albergo del pappagallo disse il visconte è arrivata questa mattina innanzigiorno e mi duole di dover soggiungere chissà è alquanto sofferente lo credo io disse il vescovo lanciando un'occhietina dolce al bambino questa sera dopo i vespre andrò da lei frattanto vediamo di sbrigare le altre faccende il conte di Carolistria reclama dal campanile la visita di un medico malgrado i suoi molti torti egli è pure un cristiano come noi ed è giusto che gli prestiamo assistenza si tratta anche di constatare se il cervello di quel disgraziato versi come afferma il signor commissario qui presente in condizioni anormali nel qual caso si penserà immediatamente a separarlo dalla moglie con un atto regolare di divorzio dunque all'opera qualcuno vada in cerca dal medico di questo mi incarico io disse il visconte sarebbe altresì a desiderarsi proseguì il vescovo con accento più mite che altri si incaricasse di presentare a quel padre disgraziato il primo frutto dei suoi travagli legittimi anche di questo mi incarico io replicò il visconte impossessandosi del neonato voi voi sempre voi esclamò il vescovo con un movimento di impazienza ma noi noi anche noi non si potrebbe per grazie aver l'onore di conoscere il riverito nome di vostra signoria io mi chiamo Ludovic ed iscendo dalla illustre famiglia dei visconti d'aghilar di salispana d'aghilar non mi è nuovo questo nome credo anzi che un d'aghilar abbia sposato in terze nozze una deguttinga di birtoldania sta a vedere che siamo parenti tutto mi induce a supporlo disse il visconte baciando rispettosamente l'anello sulla mano che il vescovo gli stendeva dunque se non mi inganno abbiamo pensato a tutto voi commissari accompagnerete il visconte e il medico nella loro escursione al campanile sarà bene che assistiate al consulto per inviare subito un rapporto alla prefettura nella mia lunga carriera ecclesiastica mi è sovente accaduto ma questa volta l'intercalare favorito del vescovo venne troncato a mezzo da un rumore partito dal cortile erano le carrozze che conducevano il caudatario il crocifero ed altri prelati del seguito di sua eminenza la casa parrocchiale brulicava di clero e di popolo di là a pochi minuti monsignore de guttinga saliva agli appartamenti superiori conversando col visconte a voce animatissima e traendo dietro i suoi passi una coda di prelati don fulgenzio attraversando l'anticamera notò con soddisfazione che gli abiti della contessa non erano più là il degno sagrestano aveva compreso la sua strizzata d'occhi si era impossessato di quegli abiti gli aveva fatti ripulire e stirare dalla moglie ed ora nella sagrestia stava compiendo con quelli la trasfigurazione di santa dorotea